Perché non parlate contro di loro invece? Perché non parlate contro di loro? Perché non parlate che dite che ci hanno cacciato la dignità? Perché non parlate che dite che ci hanno cacciato tutto il mondo? Ma dai, lo devi dire a noi, perché tu sei pagato da noi, sono un cittadino libero, sono un cittadino libero, tu sei pagato da noi, da tutti quanti. Da te sono pagato io, ma vedi tu vai a dire, io ho fatto il professore e la mia vita. E allora qual è il problema? Tu invece cosa hai fatto? No, basta accettare, vai accettare, nemmeno te lo dico che non sono fatto io, vai accettare con me. Sei un imbecillo ignorante. Hai ragione. Sei un imbecillo ignorante. Hai ragione, invece la persona intelligente che scende da Papanice, guarda un po', manca i cagli. Sai cosa ci diventa a me, c'è una laurea? Oh, ho i miei dubbi a questo punto, ho i miei dubbi, ho i miei dubbi, ho i miei dubbi. A me non mi rivolgherai più la laurea. Assolutamente, qual è il problema? Ma per che mi fai la spesa mia tu? Oh, gioia mia. Non mi rivolgherai più i coglioni, vai. Ce li hai? E te lo vi posso dimostrare. Non offendere però con la bocca, eh? Non offendere con la bocca. Gretino. Va benissimo. Ok, ciao, ci vediamo poi. Non offendere con la bocca. Non offenderlo tu, non offenderlo tu. Non offenderlo tu. Non offenderlo tu. Con questo non ci vuoi avere a che fare, no, no. Con questo non è mia, mi dispiace. No, con questo non vuoi avere a che fare. Chi è il signore? Stai sbagliando completamente, non ti ha chiamato nessuno così. Lo stai dicendo tu, lo stai dicendo tu. Lo stai dicendo tu. Lo stai dicendo tu. No, no, assolutamente no. Uva e destra nel regalo che voi tu. Io tornevo solamente che potete scrivere quello che dicevano. Per favore, non voglio dire che fai. Nessuno dà piazza d'orecchio, lo stai dicendo tu. Perché se sareste veramente persone, veramente che difendete del territorio, parlate tutti contro di loro. Siccome come è arrivata, come è arrivato tutti quanti, non è arrivato nessuno. Non è arrivato nessuno, ragazzi miei. Guardate, mettete la capo. Non parlare, non parlare, perché chi non è nessuno. Stai zitto che è meglio, proprio tu parli. Per favore. E' stato eletto dal popolo, chi è? E' stato eletto da chi? E' stato eletto dal popolo. Ma va un bravo, va un bravo che non capisci politica. Che ha corso contro il rumore, il rumore di conca l'altro. Ma va un bravo, che è meglio. E' stato eletto dal popolo, chi è? La verità fa male. Ditelo forte, signor, ditelo forte. E la verità fa male? Allora, allora, ditelo allora. Ma che è successo? Niente. Come niente? Non è successo niente. Per me non è successo niente. Puoi raccontarlo, no? Abbiamo iniziato la diretta in ritardo. No, non è successo niente. Non lo vuoi raccontare? No, non è successo niente. Non è successo niente. Non è successo niente, perché di nuovo avanti la cosa.